funzionavano quanzo non ce l'ha assertata ma voi anzi nell'attesa va comandando allo superlanc più bicicletta acqua non prego l'acqua ma non c'è sangue va bene a quando si pronti, non faccio sapere guarda quello è stato ma questo poi c'è e non ripristi e lo so che è un attimo cosa c'è non lo so cosa c'è non lo so e ci fosse eccessivo e lo faccio no eh ssss trascendopare non 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 io sono bella faccia io sono bella fatti adesso vado un raffetto Sì, non bisogna dare la botta, eh? Comunque a me piace il suo fusile. Sto facendo Taroc V, il fusile dell'assanzo. Sto facendo 5 a 45. Uccisione confermata. Oh, questo. Allora, cosa ne ho visto? Oh, già. Siamo in vantaggio. Ma qua, chi la morì là? Scusa, ma. Boh, ne capisci cosa. Sì. Confermato, nemico terra. Sì. Oh, in un'altra cote. Sì. Venga va a me, eh? Abbiamo perso il comando. Oh, quando c'è una stanza? Listo. Sto ricaricando. Confermata. Oh. Ah vabbè, boh. C'è il siccolo cazzo. Sto ricaricando. Eh, è vecchissimo oscuro. Un nemico in vantaggio. Ah, il ha tricchelto. Un nemico attivo. Ah, è da giù, non è molto da giù. Un nemico attivo. C'è il siccolo. C'è il siccolo. Abbiamo perso il comando. Inflessibile, attivata. Beh, chi stia con gli ambientali? Allora, ricambio. Cambio caricatore. Non c'è il siccolo. Non c'è il siccolo. Non c'è il siccolo che mi fa aiutato contro tutti. Tutti qui li scudibbazucchi. Sto ricaricando. Un'altra. Pronto all'uso. Confermo. Richiedo ricognizione aerea. Ricevuto. UAV in sorvolo sull'area. Ricognizione disponibile. UAV nemico in vantaggio. Sto ricaricando. Richiedo ricognizione. Ho una carica perforante. Ah, strunzi. Molto pure tu. Annaggia la miseria. Questa è la lobby scia. Voglio proprio qua. UAV alleato in zona. Il nemico ha schierato un UAV di disturbo. Ci siamo portati in testa. Un'altra. 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 Ah, è che susa me, ovvissi. Sua c'è scuola. Su! Ha, 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 ha. Sto ricaricando un busto d'inferno Bravo Il nostro UAV è in sorvolo UAV, fine autonomia Il suo suscuro è già tritato, non o no? UAV, alleato online Fai già migliorare un'istruzione il nostro UAV è in sorvolo a noi Attacco con mortaio alleato. UAV alleato in zona. Io non c'è un'altra stop. Non ti vuole che di. Ah sì. Ah, c'è un'altra volta. Ah, c'è anche un'altra termina, non mi posso mai muovere qua. Ah, c'è un'altra. Ah, c'è un'altra. Ah, c'è... Sto ricaricando. Procesione confermata. No. Via a me munizio. Via a me targhettinata. Ah, c'è un'altra. Ah. C'è un'altra. Chiettino, io vado a fare l'aria Spare a Pasqua, tu vuoi secchini, non preoccupa Spare a Pasqua, tu vuoi secchini Oh no Eh no Elicottero di supporto stile sindone un minuto oh ma che cazzo sta chiesto ma non so chiesto non so vero chiesto non so vero non so allora non so non so non so non so oi edu da buono a gioca oi come giuta ottimo lavoro ok ok guapa suviers maggi guapa no 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 io non so ci si entri su oh ish ish oh ma comunque la facoltà mi sono culpato ma ma ecco io vi rietta la tabella che l'attrice purtroppo la tabella la mappa però quando fai eh che la tabella non l'ha fatto più quattro persone secondo me li aggiungeranno dopo ma non lo so la missione è una parola però che ci potessero fa fa ci potessero fa pazzia eh si ma poi non può manca nanzo non può manca nanzo cioè noi ci ha formato credi credi 9 eh ma io mi fai se ci segui invitaci quando sei pronto questo ok che ha mannato la foto che ha mannato è c no non so se ci visti scena proprio qui eh si si il 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 Si Sto ripiando Sto ripiando da me Ah no no lo ha ancora Ah è 160 165 millisecondi Come viene in sci Asciuto Personale nemico alla postazione Ehi C'è pascalo Ma non c'è fatta Oh bellissima Di bello dove va bene Aio ma mi lagga ancora eh Si si ma fai un conflitto Che non so Ma ci fateci 3 4 kg Oh i DSLG Gursa la gara con il co Non è mai fatto per la salle Una Ma In scendere Minecraft 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 Rimesci Il Si si ma Ci si Si Ma Ma In In Ma In Il 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 conquistata la zona la morte sagra no da rostro integrato non è bellissimo chi se giusto metragliato non sono le luci, non sono le veloci, faccio tutto va bene non ne becchi, ne trovo proprio sono ci sono una paganda a mezzù ma chi mi ha fatto questo lo fa? è che era una VPN è pieno ma è rocchiglissima secondo me mi è rimasto su, non mi voglio se giusto una di prezzi si rimane i mesuloni c'era una partita vinta vedi vedi, sciulero, vedi vedi vola vola non vuole di marco, non vuole di marco vedi vedi non vanno andando in terra sto sciogando la mamma io provo a sparare, sennò mi sparo mezzo da ero si si è bellissimo skrrkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkba vuoi u% le regazzi, sennò mi sparo al mezzo voglio scende giù i zombie non scende giù però parmatrix ritirata ritirata bellissima del capito mani gioco solo il bagato ma accolta si modiscono le rete no non lo dice adesso io però non ci capito che non beca nessuno mi agisce se lo vorrò che stiamo anche a dire che stiamo a dire che stiamo a dire sono per misure che attuale a zona di la cazza di asca la gara che c'è il passaglio muretti vedi la sera ci verrà conteggiare come sconfitta il sangue renda il ruolo vermi un'altra sotto da gianna io ho cancro con la scuola ma che stai tu con un scudo umano ma cattiva c'è nel ci capito che è successo ma non è giusto c'è nel ci spavola tanta volta ma pure io lancerò al spart e già nemici nel perimetro un becane e questo è un buon tiro male 7 8 l'armi ci chi stato un dato più ci sei un po' più un po' più lento begani niente si è un po' 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 si è giusto a curtirla ora qua io ma ora nella camera è se vuoi curtirla ho da caro a zumbodo ho da mia a zumbodo come ti vado a sai che e qua? eh si è pure il tuo prego come ti vado a sai che qua? eh si sai, sai che con un cartelletto no? per poi devo portare con un po' l'altro è super a noi che vuoi io mi vedo sai che ho pagato su un'emesma buona niente tu tipo con costello? ma la loro foto di un stile la cortina prima delle dobbiamo a il sito e se ci chiamere 6 è sicuro che arriva a gustola quando devi dire la riportare no io non c'è tutto cazzo ma non so ma non è venuto male i cavi oh ma ne fai si boh non lo so si deve fare ma ne fai che si c'è un'egett c'è un'egett c'è un'egett si deve fare oh oh i l'ai fainta no no oh i l'ai just i don't i don't i don't i don't i don't i don't a 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 che era una lobby cambiato cambio caricatore misile cruzo stile lanciato inflessibile in funzione il nemico prende charlie metto un esca a 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 purtroppo io sono ricco di amicizie inutili a 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 confermato operativo in zona misile cruzo stile cambio caricatore ma ne beco proprio a 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 gc is a 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 tornata raggiungete la postazione UAV nemico attivo ma dove dice chi mi ha fatto ma vedai oh inflessibile in funzione guarda chi sei chi la sei a sparare ma chi sta buona è vedo un nemico persagli inizia la postazione spostamento state pronti non 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 è possibile non da sinistra basta ma nemici nel perimetro per ti cazzo perdono perdono oh i nemici alla postazione stile in arrivo non è normale C'è chi si gira e chi ha fatto il nox Come cazzo questo fatto? Vedi? Il problema di questo gioco è proprio questo Non c'è nessun controllo, non c'è niente Troppo Vav nemico in zona Versagli nemico in zona Non c'è nessun controllo Non c'è nessun controllo Un controllo, UAV in sorvolo sull'area Cognizione disponibile Ma... Non c'è nessun controllo Non c'è nessun controllo Non c'è nessun controllo Un controllo È aggiornata Mettate la postazione Postazione compromessa Liberatela Perfondo Il diablete Ohhhh troppo un pre-fight, voglio pure capir. Sto ricaricando. 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 Sto ricaricando.